non ricordiamo al palazzello no un anno quest'anno ne siamo tanti di più manca ancora qualche disciplina che nel prossimo anno il parabają diventerà piccolo tanti campioni quest'anno di tutte le discipline di pensione dell'epensato agli armi e l'eleganza salto stacoli prestaggio e il better che quest'anno ne abbiamo distritto domenico, anche a De Loro, esatto, ma non sono neanche tutte perché mancano altre discipline che si sono sporte qui in campagna, ma sono solo questi canzionati. Grazie ai vostri papà e alle vostre mamme, ragazzi un applauso! 150 premiati, sempre più persone restano affascinate dallo sport dell'equitazione, come si spiega questa evoluzione? Ciao, buonasera, allora noi quest'anno abbiamo avuto un'altra enorme crescita e negli ultimi cinque anni l'equitazione in campagna è cresciuta in modo vertiginoso, il trucco è fare un'equitazione per tutti, si parte da una base che l'equitazione è vero che è uno sport per pochi, ma in Sefitale cerchiamo che con costi contenuti e con tanta qualità di dare un servizio soddisfacente agli atleti e alle famiglie. Oggi abbiamo premiato 150 atleti in campagna, provenienti da tutte le province della campagna, man mano con Sefitale in ogni regione verranno premiati tutti gli atleti come in Sicilia, in Puglia, in Calabria, quindi in ogni regione c'è la tradizionale festa di campioni di fine anno e poi come ogni anno allo Stadio Olimpico come è successo ad ottobre abbiamo premiato 3.000 atleti alla festa dei campioni Libertas. Grazie a tutti. Grazie a tutti.